buongiorno riprendiamo i lavori di questa tre giorni promossa da fondazione nitti e da associazione merita e dedicata al umanesimo digitale un titolo commentato più volte in questa giornata e mezzo per la sua eh perché stringato ma dice tanto eh dunque apriamo questa questo incontro che continuerà anche domani eh fino a metà giornata eh si propone come è stato anticipato ieri di aprire una riflessione eh profonda e propositiva sui temi del mezzogiorno su cosa può eh consentire una riscatto del mezzogiorno e lo sviluppo di quest'area del paese. Il tema al centro dei lavori è quello della economia della conoscenza che eh si ritiene possa appunto mh produrre anche valore economico, possa anche produrre sviluppo. Questo pomeriggio ehm io introduco ora il primo panel pomeridiano, il tema al centro della discussione è la formazione, la formazione che si può considerare il primo mattone per la costruzione dell'economia della conoscenza, un tema su cui ci sono grandi ripensamenti, dapprima sono partiti questi ripensamenti sull'onda della trasformazione industriale in industria 4.0, poi sulla scorta della mh galoppante digitalizzazione e non ultimo dopo la pandemia che ci ha spinti a cambiare modo di lavorare, modo di vivere e quindi con necessità formative molto importanti. Non mi dilungo, il tema verrà sviluppato ampiamente dai relatori qui presenti e al momento lascio la parola ad Aurelia Sole della Università della Calabria, ex elettrice della Basilicata, chiedo scusa, ex elettrice dell'Università della Basilicata che farà da conduttrice di questo panel. Grazie, grazie e buonasera a tutti e grazie per essere qui. Diciamo che la formazione è un tema centrale per lo sviluppo del territorio, specie quando questa viene declinata insieme all'innovazione e alla ricerca. Ovviamente dobbiamo guardare all'intera filiera, quindi quella che parte dalle scuole e poi va all'università, al post laurea, quindi al terzo livello della formazione, che in modo più diretto ha un collegamento anche con il mondo del lavoro, con la ricerca e quindi con la possibilità di portare innovazione nei processi. Ma oggi diciamo l'università nel suo sistema di valutazione ha introdotto anche la valutazione dell'innovazione sociale, quindi non solo del trasferimento tecnologico, ma anche il fatto che la presenza di università in un territorio porta anche innovazione sociale. Io ho fatto parte di un gruppo di lavoro del Ministro Manfredi che ha introdotto proprio questo tema nel campo della terza missione e quindi non solo trasferimento tecnologico, start up, spin off, ma anche innovazione sociale e public engagement, proprio come un'attività dell'università che verrà valutata con l'attività che in questo periodo sta facendo l'Ambur su tutti gli Atenei. Oggi faccio parte di un gruppo Svimez che continua a lavorare su questi temi, che guarda al ruolo delle università e delle aree interne. Le università sono collocate capillarmente sul tutto il territorio nazionale e quindi sulle aree più avvantaggiate, più industrializzate, ma anche sulle aree interne. La cosa che ci diciamo sempre è che in questi luoghi le università potrebbero fare moltissimo, quindi avere maggiori possibilità di dare spinta e sviluppo a queste aree interne del Paese. Però molto spesso le università di queste aree sono piccole e vivono le stesse condizioni delle aree in cui operano. Quindi in territori economicamente fragili e con infrastrutture deboli. Quindi sarebbe importante lavorare anche con le università proprio come elementi, come nuclei all'interno dei territori dai quali sviluppare questa innovazione. Spesso è necessario avere massa critica, quindi è importante che le università di questi territori facciano rete, ma non solo tra di loro, ma anche con le altre università presenti sul territorio, ma anche al di fuori del territorio, perché l'internazionalizzazione è uno dei nostri compiti ed è uno dei compiti ai quali tutte le università devono assolvere. quindi io penso che se noi andiamo a guardare sul sito del MISE abbiamo circa 600 infrastrutture di trasferimento tecnologico che sono state raccolte in un Atlante realizzato lì su quel sito. Io penso che le università possano fare sicuramente parte di questo ecosistema dell'innovazione del trasferimento tecnologico ed è coinvolgendolo come nel nostro piccolo, per esempio abbiamo fatto in Basilicata con la partecipazione ai cluster, oggi abbiamo sentito anche del ruolo di queste infrastrutture che forse andrebbero riviste e andrebbero anche ripensate. Ma io non voglio prendere altro tempo e vorrei dare la parola a Luca Bianchi che è il direttore della Svimez che è economista esperto e che si collegherà con noi da remoto. Ecco, lo vedo già qui. Eccomi. Buongiorno, ciao Aurelia. Vai, vai con il tuo intervento. Ok, grazie Aurelia, grazie a tutti, grazie dell'invito. Mi pare un'occasione importante di discussione e ringrazio l'Associazione Merita e la Fondazione Nitti per averlo organizzato. Diceva bene Aurelia, è un tema fondamentale, per noi che parliamo di politiche di sviluppo ovviamente il tema della formazione è tema centrale, senz'altro nell'analisi economica. La domanda da porci è se in realtà questo tema è stato altrettanto centrale invece nell'analisi, nella definizione della politica economica. Perché in realtà se vediamo un po' la storia dell'intervento pubblico, in particolare della politica meridionalista nel nostro paese, vediamo come invece in realtà nel corso del tempo si sia indebolita il ruolo anche della politica aggiuntiva nel supportare i percorsi di formazione. Poi ci torniamo dopo, però basta vedere come sia di fatto marginale, soprattutto nella definizione delle politiche di coesione europea, insomma incomplessivamente il tema della formazione. Io oggi, rispetto anche a quanto diceva Aurelia in precedenza, che si è concentrato sul tema dell'università, tema sul quale la Svimez, come ricordava, abbiamo costituito un gruppo di lavoro e a breve, tra poche settimane, uscirà un documento proprio dal titolo Le università per lo sviluppo dei territori, cioè cercando di collocare la politica universitaria appunto come una componente di un progetto di sviluppo territoriale. Il tema invece che oggi volevo più soffermare è quello un po' più all'inizio della filiera dell'istruzione, cioè il tema prevalentemente dell'istruzione scolastica, perché credo che siamo in un passaggio fondamentale finalmente il PNRR italiano, cioè il piano nazionale di ripresa e resilienza, che insomma anche proprio per la sua natura di impostazione, cioè essendo un piano che è dedicato alla costruzione di un processo di sviluppo che parta dalla riduzione delle disuguaglianze, quindi diciamo in cui mette insieme il tema della coesione economica e sociale col tema della crescita, dà effettivamente un ruolo importante al tema dell'istruzione, e della formazione universitaria. Quindi in questo senso rappresenta un'occasione veramente importante. Perché è veramente importante? Vado rapidamente un po' per titoli. Il primo è che secondo me tutti noi insomma che ci siamo occupati ormai da decenni di mezzogiorno quando dobbiamo avviare una riflessione più profonda proprio sui contenuti della politica meridionalista. E credo che noi, insomma io sono convinto che il fatto più rilevante, più nuovo degli ultimi vent'anni, diciamo in particolare dopo la crisi del 2008, sia stato proprio l'ampliamento complessivamente dei divali di cittadinanza. E soprattutto l'interruzione di un processo di convergenza in tutti gli indicatori relativi alla formazione. Questo è il primo punto che volevo sottolineare. Cioè rispetto a un mezzogiorno che siamo abituati a raccontare come una realtà sempre uguale, cosa che non è assolutamente vera o ancora peggio sempre omogenea. In realtà se analizziamo un po' una dinamica storica degli andamenti economici e sociali del Sud, perdonatemi la semplificazione per il tempo, mi sembra di vedere, se vedete le serie diciamo almeno dal secondo dopoguerra in poi, emerge di fatto una continua alternanza di processi di convergenza, di processi di divergenza economica. Notoriamente l'unica fase di consolidata e lunga convergenza Nord-Sud in termini di pilprocapite, per semplificare, è quella dagli anni 50 alla metà degli anni 70, poi ci sono alternate fasi di convergenza economica e divergenza economica. Se vediamo invece il divario Nord-Sud, soprattutto dal punto di vista degli indicatori sociali, in particolare degli indicatori di istruzione, in realtà sia pur con intensità diverse, il Sud è stato caratterizzato complessivamente da una continuità del processo di convergenza. I tassi di scolarizzazione tendenzialmente tendevano a convergere per tutti diciamo il secolo scorso, fino prima in termini di alfabetizzazione più ampia, poi soprattutto in termini di test di partecipazione alla secondaria superiore. Addirittura siamo arrivati diciamo all'inizio degli anni 2000 con diciamo un sostanziale chiusura del divario Nord-Sud, ad esempio in tasso appunto di iscrizione, di partecipazione alla secondaria superiore. anche in termini di tasso di iscrizione all'università, pur diciamo nelle fasi diciamo degli anni 80 e 90 in cui non si vedeva una convergenza dal punto di vista economico, in realtà negli indicatori scolastici, ad esempio indicatori universitari, abbiamo avuto una forte crescita dell'iscrizione all'università, addirittura siamo arrivati intorno al 2007-2008 dove il tasso di passaggio all'università, cioè la quota di giovani che conseguivano il diploma e che l'anno dopo si iscrivevano all'università era sostanzialmente allineato tra mezzogiorno e centro-nord intorno al 72-73%. Il vero momento di rottura di questo processo di convergenza in realtà si determina proprio in questo nuovo secolo e in particolare dopo la crisi economica del 2008-2013, passatemi la semplificazione, le due crisi, la crisi diciamo più di natura esterna e la crisi da shock diciamo di finanza pubblica. Cioè da quel periodo abbiamo avuto un'interruzione di quel processo di convergenza negli indicatori scolastici, addirittura abbiamo perso quasi 10 punti in tutto il paese, ma un po' di più nel mezzogiorno in termini di tasto di iscrizione all'università. E questo diciamo senza neanche molto accorgersene, perché però appunto abituati a leggere il divario su altri indicatori non avevamo colto che nel frattempo insieme alla scuola peggioravano alcuni e altri elementi di servizio, penso alla sanità, in parte anche alla mobilità, quindi si stava creando un divario di cittadinanza che cresceva rispetto a un divario economico che sostanzialmente rimaneva sempre uguale. Tutto questo per dire come di fatto, avendo perso di vista in qualche misura la centralità di questo tema nelle definizioni delle politiche, anche la definizione delle politiche, hanno diciamo perso di vista questo come ancora una componente essenziale delle politiche di sviluppo, in qualche misura ancora come un intervento diciamo precompetitivo fondamentale rispetto al quale invece di avvicinarci cominciamo a perdere posizioni. E questo è il momento in cui siamo entrati nella crisi pandemica. Anche qui altri due elementi di dato che a me è impressionato molto e forse meno noti. Ad esempio molto parliamo dei divari di competenza Ox e Pisa, diciamo quelli sulla competenza acquisita degli studenti, anche su quello dove siamo abituati sempre a dire c'è un divario nord-sud, c'è un divario nord-sud. In realtà nel corso delle diverse analisi fatte da Ox e Pisa, in realtà questo divario si stava riducendo, cioè in tutti gli anni tra 2003 e 2006 fino al 2009, ogni anno avevamo una riduzione del divario nord-sud in termini di competenza acquisita dei ragazzi. Da quella crisi, dal 2012, in realtà questo divario ha smesso di avvicinarsi e quindi abbiamo di nuovo un'interruzione di quel processo di convergenza. Questo perché? Perché appunto nel frattempo si era indebolito sostanzialmente la capacità della scuola di fare uguaglianza, soprattutto sulle fasce più deboli. Quindi probabilmente è il momento di riflettere su questo, anche soprattutto alla luce di quanto in realtà anche le politiche specifiche per il mezzogiorno, sostanzialmente coincidenti con le politiche regionali europee, a cui si aggiunge ovviamente la gamba nazionale, abbiano sostanzialmente diciamo tralasciato questo tema della qualità dei servizi come una componente fondamentale della politica di sviluppo, cioè per creare le condizioni appunto oltre che per una cittadinanza più piena, anche per una crescita diciamo più facile, più una crescita possibile anche del sistema delle imprese meridionali. Questo in qualche misura appunto ci invita a una riflessione molto più ampia e ci fa rientrare questo come un tema centrale per chi si occupa di politiche di sviluppo, che riguarda, e qui è un grande tema di dibattito, riguarda da un lato appunto la coerenza delle politiche nazionali con le politiche di sviluppo, cioè la lunga fase di riduzione delle risorse per servizi essenziali, appunto istruzione e sanità, con una riduzione di spesa ordinaria, hanno ovviamente reso più difficile anche la vita delle politiche specifiche, ma d'altra parte abbiamo visto come di fatto soprattutto le politiche regionali non abbiano avuto al centro della loro analisi il tema del miglioramento della qualità dei servizi, quindi l'investimento soprattutto in infrastrutture sociali che rappresentano la componente essenziale appunto non solo della cittadinanza ma una componente essenziale per attivare i processi di sviluppo. Poi dal lato diciamo da un punto di vista è un problema di impostazione delle politiche e dall'altro anche di scelte, di scelte fatte soprattutto sul territorio anche dalle classi dirigenti territoriali. Io uso sempre un esempio, cioè per un sindaco del mezzogiorno molto spesso hai un maggior rendimento politico nella costruzione dell'ennesima rotonda all'entrata del paese che può attivare un po' di domanda, un piccolo appalto, quindi un po' di domanda per le imprese locali piuttosto che garantire le risorse magari per avere la menza scolastica e il tempo pieno. Quindi sicuramente in questo il PNRR può essere un elemento di sottura. Le dotazioni previste sia sulla missione 4 che sulla missione 5, diciamo quelle che più incrociano diciamo i temi della scuola di espressione scolastica del sociale, identificano Asilinido su tutta la filiera da zero anni fino all'università uno dei punti fondamentali di intervento. Anche qua sicuramente la dotazione finanziaria è importante, parliamo solo per Asilinido di circa 4,6 miliardi di euro, una sfida importantissima che richiede però per la realizzazione appunto un impegno, un salto di qualità anche dal punto di vista amministrativo molto importante, nonché altre risorse previste per la dispersione scolastica. A questo punto però nel momento in cui probabilmente abbiamo risolto uno dei problemi attraverso una dotazione di finanziaria, cosa che peraltro probabilmente non è mancata neanche in passato, però rappresenta una sfida fondamentale, rimane l'altro pezzo del problema che vi dicevo prima. Cioè quanto in realtà l'adeguamento dei servizi e in particolare il tema dell'istruzione e della formazione abbiano in realtà un forte commitment dal punto di vista politico. questo riguarda in particolare proprio l'attuazione del PNRR e qui vado a chiudere una delle prime delle osservazioni che noi abbiamo fatto proprio sul piano nazionale di ripresa e resilienza uno appunto è che, di cui molto si è parlato perché c'è una quota del 40% di risorse dedicato al Sud. La mia posizione è sempre stata che le quote ex ante possano rappresentare una vittoria di Pirro perché il Sud tante volte ha vinto la battaglia degli stanziamenti e perso la battaglia della spesa. Credo che a partire dal tema delle infrastrutture sociali e della qualità dei servizi, la effettiva realizzazione poi di quegli investimenti su quel territorio necessitano di politiche di accompagnamento. Una sola considerazione ad esempio sul fatto che moltissime risorse del PNRR saranno erogate su base di meccanismi in qualche misura competitivi, cioè che le amministrazioni locali, pensate che i comuni dovranno essere il maggior soggetto attuatore di quelle spese, dovranno fare progetti. Quindi il rischio che se c'è un forte commitment politico da un lato e accompagnamento con investimento in termini di capacità progettuale è attuativa il rischio che proprio dalle regioni, dalle aree in cui c'è più domande, c'è più carenza e più fa bisogno di quei servizi, in realtà la scarsa verità di progettazione potrebbe far vermi il meno di queste risorse. Questo riguarda molti comparti, molti comparti di intervento. Quindi complessivamente non ho avuto il tempo di dedicarmi al tema dell'università che credo che Aurelia ed altri potranno trattare, credo che la vera sfida dei prossimi anni sarà proprio questa sulla capacità attuativa e di progettazione, con un'ultima considerazione che riguarda che appunto una battuta se volete, cioè il mondo non finisce nel PNRR, dovremmo capire, cioè la vera sfida è se le indirizzi strategiche del piano nazionale di riprese e resilienza, che ha identificato alcune missioni, alcuni interventi importanti, sarà in grado in qualche maniera di condizionare tutto il resto della politica, che è dedicata soprattutto nel mezzogiorno. Accanto ai circa 80 miliardi del, quasi 90, del PNRR, nei prossimi anni il mezzogiorno avrà oltre i 50 miliardi di fondi europei delle politiche di coesione e oltre i 50 miliardi di fondi sviluppo e coesione. Quindi una quantità di soldi gigantesca. Il rischio, non ci possiamo permettere ancora una volta di fare diverse programmazioni separate l'uno dell'altro. Serve che questa, diciamo, identificazione del tema della lotta alla disuguaglianza e in particolare del rafforzamento di alcuni comparti essenziali come istruzione, sanità, università, insieme alla transizione verde, siano temi fondamentali per riattivare i processi di crescere nel mezzogiorno, siano non soltanto, diciamo, la modalità attuativa del PNRR, ma siano le condizioni, cioè siano gli assi strategici che dovranno condizionare anche le altre politiche dedicate al mezzogiorno. Aprendo poi l'ultima delle grandi questioni su cui poco si è parlato, che è quella che, dato che una buona parte dei fondi delle politiche di coesione sono di fatto gestiti dalle regioni, quali sono i meccanismi che possono garantire questo coordinamento tra politiche, tra il grande piano strategico del PNRR e poi le politiche regionali di chi ci saranno le regioni, qual è il tavolo su cui questo coordinamento si può realizzare? Io credo che veramente, soprattutto a partire dal tema dell'istruzione, c'è adesso la possibilità di dare un input che può veramente rompere quella deriva che negli ultimi anni ha portato ad allontanarsi i territori, soprattutto su questo fronte. Però appunto tutto dipenderà dalla nostra capacità, soprattutto dalle classi dirigenti nazionali e regionali, di poterlo mettere in atto. Tu parlavi di una crisi che parte dal 2008, ma se noi andiamo a guardare le università, a partire dal 2009 ci si è avviato un depauperamento continuo del finanziamento universitario, quindi che è anche coinciso forse con un minore impegno di portare gli studenti all'università. L'introduzione del costo standard che sembrava un buono strumento per finanziare le università, in realtà ha creato ulteriori divari e nella sua prima, diciamo, formulazione addirittura è stato dichiarato incostituzionale. Oggi abbiamo introdotto molto sul diritto allo studio, però se andiamo a guardare i nostri territori, cioè il sud, ma anche quelle aree interne, vediamo che le università sono quelle che hanno il maggior numero di studenti che sostanzialmente usufruiscono il diritto allo studio. Possiamo dire che stanno tra il 30 e il 40% degli studenti iscritti, quindi ancora una volta un mancato introito per le università che si ritrovano ad avere bilanci e a fare i conti di mantenere comunque un servizio di qualità. Così come io ritengo che siccome il sistema universitario nazionale è molto diversificato, parliamo di Atenei che hanno 3.000 studenti, diciamo così come vengono calcolati nel corso standard, da 3.000 studenti in corso fino a 80.000 studenti in corso. Utilizzare gli stessi metodi per distribuire le risorse sicuramente è, diciamo dal punto di vista anche matematico, non corretto perché c'è un problema di scala e ancora una volta di collocazione territoriale di questi Atenei. Ma penso che di questo tema ci parlerà il collega Giuseppe Cocco che è un professore di economia dell'Università di Firenze e di Bari. Allora grazie, grazie Aurelia, grazie alla Fondazione Nitti e all'Associazione Merita per questo incontro importantissimo. Io vorrei cominciare insomma come dire associandomi alle parole di Luca Bianchi insomma voglio dire non c'è niente di più importante dell'istruzione in questa fase perché perché se guardiamo il nostro declino come paese e anche come area territoriale è chiaro che insomma il declino viene principalmente dalla scarsa accumulazione di capitale, sì capitale fisico ma soprattutto capitale umano nel senso che non abbiamo le competenze e dobbiamo dircelo abbastanza chiaramente. Insomma diciamo ieri Sebastiano Maffettone ha detto partiamo dall'ipotesi che il sud sia pieno di competenze e di tutto e con la dematerializzazione, de-territorializzazione, vabbè insomma avete capito, diciamo possiamo saltare una serie insomma diciamo così di infrastrutture territoriali e ridiventare centrali. Ecco io non credo che le cose stiano così perché non possiamo assumere che abbiamo le competenze e abbastanza come dire tutto quello che leggiamo insomma ci racconta la stessa storia in realtà. Abbiamo pochissimi laureati e vi annuncio che sarà difficile aumentarli per un motivo molto semplice perché non ci sono le competenze alla base cioè la scuola del meridione effettivamente insomma diciamo ha relativamente fallito nel formare le competenze insomma ci sono una serie di survey che appunto sono state già menzionate come Pisa e altri. Rispetto a quello che ha detto Luca però io vorrei aggiungere alcuni elementi perché il dibattito insomma sulla scuola e sull'università si concentra sempre spessissimo sulla questione della spesa cioè divari e spesa, divari e spesa. Va bene che siamo economisti però secondo me dobbiamo un po' guardare a quali sono i veri elementi insomma che caratterizzano oppure almeno gli elefanti nella stanza che ci possono dare delle indicazioni su che cosa è andato storto insomma diciamo così e secondo me il divario non è collegato in particolare a problemi di spesa cioè è collegato a problemi di spesa in generale in Italia perché abbiamo tagliato insomma i finanziamenti all'università generalmente, all'istruzione generalmente e quindi così. Però quello del mezzogiorno ha delle caratteristiche particolari. Oggi noi ci illudiamo che con un sacco di soldi insomma che ci mettiamo 4 miliardi e mezzo negli asili nido per esempio insomma domani possiamo avere un'accumulazione di capitale umano consistente ed è probabile che effettivamente questo avvenga però ci dobbiamo porre la questione insomma come dire di stimolare la domanda degli asili nido oltre che l'offerta. Questa è un'osservazione che ha fatto tempo fa anche Lucrezia Reilly in un altro seminario insomma diciamo perché se gli amministratori del sud non hanno ritenuto di sviluppare questo servizio è sicuramente per questioni di qualità istituzionale ma anche perché non ci sono state le pressioni della popolazione che magari in tanti contesti preferisce avere qualche centinaio di peripatetici che guardano i grattini insomma sui parabrezza delle auto piuttosto che alcune maestre d'asilo insomma diciamo perché perché le persone che dovrebbero fruire di quei servizi non esprimono la giusta domanda. Questo lo dico semplicemente perché bisogna porsi il problema insomma in un'ottica forse un po' ottocentesca di far capire qual è la nostra reale esigenza di lungo termine in un caso come questo per esempio insomma diciamo così. Un'altra questione da dove nasce il divario? Cioè quando è che comincia il divario? Possiamo assumere che sia sicuramente l'asilo nido il problema? No, il divario insomma non c'è alle scuole elementari per esempio insomma diciamo l'invalsi non lo rileva alle scuole elementari. Lo rileva a partire dalla scuola media. Che ci sia qualcosa di sbagliato nella scuola media inferiore e eh superiore insomma io credo che dovremmo guardare un poco a che cosa abbiamo fatto in questi anni nella scuola media. Eh altri elementi come mai nel mezzogiorno il numero di voti elevatissimi alla maturità è molto più elevato che nel centro nord a fronte di competenze invalsi certificate molto più basse. Si capirebbe se lo spettro fosse lo stesso pur a competenze più basse. Ma invece no. C'è una fortissima distorsione. Una grade inflation molto diversa. Come mai le scuole professionalizzanti che spiegano tutto il divario e qui faccio riferimento a un paper che c'è nel 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 libro che abbiamo che abbiamo editato io e Claudio De Vincenti l'anno scorso insomma eh di Ludovico Albert. Tutto il divario negli abbandoni scolastici insomma si concentra in un solo tipo di scuole. Quello gestito purtroppo insomma dalle amministrazioni regionali. La formazione che eh prende delle forme sistematicamente diverse tra nord e sud. E quindi c'è esattamente la spiegazione del perché c'è più abbandono scolastico nel sud rispetto al nord. Infine come mai e come mai non c'è stato dibattito durante la eh pandemia le scuole del sud nonostante insomma diciamo una presenza minore della pandemia diciamo così hanno chiuso il doppio del tempo delle scuole del nord. Poi diciamo non si formano le competenze e ci chiediamo come mai insomma diciamo no? Queste sono tutte cose che io dico per far capire in un certo senso che noi dobbiamo costruire gli asili nido però ci dobbiamo anche occupare insomma di quali sono i problemi culturali amministrativi insomma diciamo così cioè di quali sono i problemi di merito che noi dobbiamo affrontare se vogliamo che quell'investimento abbia dei ritorni insomma diciamo così e vengo appunto all'università. Poi vi dico insomma in breve che tutti questi elementi puntano su una singola cosa a mio parere da un punto di vista culturale. La disunione d'Italia cioè il fatto che il fatto che abbiamo a un certo punto affermato che la scuola è diversa anche se finanziata tutta dallo Stato ma che ci sono delle specificità territoriali per esempio per cui tu fai l'esame di Stato con un professore che ti viene a giudicare dalla scuola a fianco invece che da un'altra ripartizione geografica con delle come dire insomma diciamo anche con dei principi insomma diciamo che sono uniformi sul territorio nazionale. Io sono profondamente convinto di questo però ovviamente questione di opinione. Per quanto riguarda l'università la situazione è tristissima come sapete noi finanziamo l'università italiana per circa due terzi insomma diciamo così del costo della media dell'Unione Europea all'interno della quale ci sono notoriamente paesi in nuova accessione che la finanziano insomma anche molto poco insomma quindi e siamo quasi l'ultimo paese insomma per finanziamento dell'università. Siamo anche quasi gli ultimi per la quota di universitari che si laureano ma non per quelli che si immatricolano perché poi abbiamo anche una dispersione fortissima dovuta in gran parte in particolare concentrata nel mezzogiorno è dovuta in gran parte a competenze insufficienti degli studenti insomma diciamo che si immatricolano. Abbiamo il tasso più alto il tasso più basso di professori per centomila studenti o diecimila adesso non lo so fortissime disuguaglianze di opportunità fortissime ereditarietà nei titoli di studio fortissima dispersione e il livello di competenze scarso però anche qui c'è un indice interessante. Siamo i livelli di competenze scarsissimi nel comparto delle lauree umanistiche forse voi non lo sapete ma il PIAC che è un'indagine che rileva effettivamente le competenze degli studenti universitari e poi anche dei laureati insomma rileva questa cosa stranissima. le competenze in lettura che hanno gli ingegneri sono molto più elevate di quelli che si laureano in lettere. A me pare che questa sia una cosa insomma clamorosa diciamo così cioè gli ingegneri in Italia credo che sia l'unico paese al mondo insomma in cui gli ingegneri insomma hanno delle competenze in lettura capacità di lettura molto più elevate di quelli che si laureano in lettere. Ci deve essere qualcosa. Al di là della spesa però che poi siamo anche l'unico paese che ha diminuito in maniera consistente la spesa per l'università circa il 10% dal 2008 al 2020 è molto di più in mezzo insomma diciamo così. C'è anche un'altra cosa interessante se guardiamo all'università italiana in termini di qualità i segnali sono molto misti però nei settori scientifici ci sono delle indagini insomma diciamo che ci raccontano che in termini di pubblicazioni e di qualità delle pubblicazioni secondo l'indice H insomma diciamo così sono cose un po' rozze ma insomma danno un'idea. In realtà i ricercatori universitari italiani sono quasi più produttivi in Europa anche in termini di qualità però questa indagine è fatta ovviamente soltanto sui settori bibliometrici si dice cioè quelli scientifici insomma diciamo e alcuni altri insomma quelli in cui cioè ci sono degli indici insomma che misurano per gli altri non è possibile. Quindi il paradosso insomma è che l'università italiana pare non essere poi così scadente nonostante insomma sia la meno finanziata in tutta Europa. Nel mezzogiorno l'anno scorso si sono ehm si sono immatricolati provenienti dal mezzogiorno il trentasette per cento degli studenti universitari italiani insomma quindi praticamente una proporzione che è esattamente uguale a quella dei diciottenni del mezzogiorno rispetto all'Italia. Quindi non è vero che insomma diciamo nel mezzogiorno non si immatricolano gli studenti però di questi trentasette per cento il sette per cento si è immatricolati in un'università del nord. La proporzione di studenti che eh si matricolano nelle università del nord è cresciuta nel corso di questi anni dal diciotto per cento che era il punto di minimo è arrivata al ventitré per cento insomma l'anno scorso. Quindi una crescita però insomma diciamo non è un fatto nuovo o un fatto o una crescita impetuosa. In quindici anni è cresciuto i cinque punti che è una cosa importante ovviamente per le nostre università però è un fatto un po' strutturale insomma diciamo così. E nel complesso le università e poi questi studenti sono insomma in genere hanno un livello di invalsi mediamente molto maggiore insomma diciamo degli altri. Eh di questo nel corso insomma degli anni dal 2003 e 2013 eh le università del Mezzogiorno hanno perso il 25% degli iscritti. Quindi è un terremoto praticamente. Poi ne abbiamo recuperati il 9% insomma negli anni più recenti. A che cosa è dovuto a questo deflusso? Insomma diciamo se uno lo scompone qui utilizzo dei dati di Torrini della Banca d'Italia che è stato anche insomma diciamo lavorato a Lambur molto a lungo. Sono tre gli elementi. Un primo è la situazione un po' ridicola che c'era nel 2003 per cui si immatricolavano un sacco di eh studenti maturi che laureavano l'esperienza insomma diciamo c'era si è il ministro di laurea si era inventato questo fantasioso insomma metodo sostanzialmente per favore laureare persone con tre esami insomma diciamo e così. Quindi questa l'eliminazione di questa cosa tutto sommato è positiva anche se erano concentrati nel mezzogiorno quindi hanno rappresentato per le università del mezzogiorno una mazzata niente male. Poi le tendenze demografiche e questa è la cosa più preoccupante per il futuro nel senso che insomma il mezzogiorno perde studenti strutturalmente insomma diciamo così la quota. Noi siamo ancora una popolazione più giovane del nord insomma ma diventeremo gradualmente una popolazione più anziana insomma eh quindi a fronte di una popolazione del trentaquattro per cento eh popolazione del sud su popolazione nazionale trentaquattro per cento abbiamo il trentasette per cento dei giovani che è esattamente quella proporzione che si che poi si immatricola effettivamente. Ora la terza motivazione è poi quell'aumento delle migrazioni di cui ho parlato prima. Secondo me dal punto di vista di policy si confrontano oggi due visioni su che fare sull'università va bene e che riguardano il mezzogiorno. Una è quella che è stata esposta varie volte da Boeri e Perotti per esempio e altri insomma diciamo su giornali o in paper insomma diciamo secondo questi il finanziamento dell'università non è abbastanza diseguale non finanzia abbastanza l'eccellenza eh e per esempio insomma Boeri e Perotti citano insomma diciamo questo fatto che i fondi premiali chiamiamoli così quelli basati cioè sulla valutazione dell'ANVUR se uno valuta l'indice di Gini tra università cioè valuta praticamente la disuguaglianza con cui sono distribuiti questi fondi trova che questo indice di Gini è bassissimo cioè c'è scassissima disuguaglianza 0,1 su 1 0,1 e quindi dicono ecco il sistema non premia in realtà la qualità non premia l'eccellenza dobbiamo assolutamente aumentare la disuguaglianza chiaramente questo per le università del mezzogiorno sarebbe un disastro perché moltissime sono collocate nella fascia bassa di valutazioni dell'ANVUR. Io penso che questo argomento sia sbagliato sotto tanti punti di vista a parte insomma quello tradizionale che trascura le questioni di redistribuzione insomma tra territori ma anche tra individui perché i più poveri tra gli studenti del sud si immatricolano al sud però è proprio sbagliato tecnicamente e nella filosofia e sbagliato nella filosofia perché in realtà il sistema di premialità italiano non deve premiare l'eccellenza ma deve spingere l'intero sistema verso livelli qualitativi più elevati attraverso quindi un sistema di incentivi che sia efficace e che non spinga quindi un'università semplicemente sul baratro ma la spinga a fare per esempio insomma diciamo un reclutamento migliore e sotto questo profilo tutto sommato insomma il sistema dell'ANVUR non ha funzionato male. Il secondo motivo è tecnico perché usano impropriamente l'indice di Gini ma non ve lo racconto insomma. L'altra visione è una visione un po' rivendicazionista insomma diciamo sulla quale praticamente sorvolo un po' ma sostanzialmente insomma si focalizza sul fatto che le università del sud hanno perso un sacco di risorse nel corso di questi anni e quindi diciamo così come conseguenza sono le perdenti principali senza interrogarsi però sulle cause. Io credo che una visione più equilibrata insomma diciamo così dovrebbe tenere conto delle critiche legittime insomma di questa visione rivendicazionista in particolare quelle che hanno a che fare con le questioni distributive sugli individui però non sui territori perché noi diciamo non esiste qualcosa come un territorio come soggetto. Esistono le persone che vivono su quel territorio insomma e quindi se le università meridionali hanno diritto insomma delle redistribuzioni ne hanno diritto in quanto studenti meridionali le scelgono insomma e vanno a studiarci insomma diciamo così invece troppo spesso sta questa polemica rivendicazionista insomma diciamo sembra assumere che è la terra ad avere un certo diritto e però al netto di questi meccanismi di riequilibrio è molto importante soprattutto per le università meridionali cioè per gli studenti delle università meridionali che rimanga in vigore un sistema incentivante perché indiscutibilmente nel 2008 la ragione per l'introduzione di sistemi incentivanti non era solo nella necessità di distruggere un pezzo del sistema universitario ma era nella situazione oggettivamente triste nella quale versava per esempio il sistema di reclutamento soprattutto nel mezzogiorno anche in altre parti eh del paese ma non dobbiamo tacerci che insomma c'erano dei fenomeni veramente veramente ridicoli insomma diciamo che in parte e dobbiamo anche da affermare anche questo sono scomparsi è urgente invece che le che il finanziamento complessivo dell'università aumenti così come le competenze degli studenti in entrata come ho detto all'inizio vi ringrazio molto messe in evidenza tante tante contraddizioni del sistema della formazione eh i problemi che vive l'università in questo momento io penso che eh noi dobbiamo garantire ai nostri utenti che sono gli studenti un'università di qualità qualunque sia il territorio nel quale poi viene fruito in qualche modo questo servizio è una ricerca di qualità quindi con la valutazione con tutto quello che viene richiesto ehm eh per ogni università certo si è fermata una cosa secondo me importantissima delle università che era la mobilità oggi non c'è più mobilità tra gli atenei e questo secondo me è stato un dato molto negativo per il nostro sistema universitario quindi dopo questi interventi do la parola ad Alessandro la terza amministratore delegato di un'antica e prestigiosa casa editrice del sud che ci parlerà ancora di formazione dell'evoluzione anche in relazione al PNRR vado sì buonasera innanzitutto grazie a eh Stefano Rolando a Claudio De Vincenti per questo invito eh mi auguro che questo incontro non diventi mai la Cernobbio del sud perché francamente la definizione mi sta antipatica preferisco definirla una 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 bella iniziativa nittiana in luogo a concio così mi sembra più come dire mi soddisfa di più come come descrizione grazie eh io mi terrò eh rigorosamente alla missione 4 del PNRR eh perché avendo un tempo militato in confindustria preferisco aderire diciamo a un oggetto che più o meno è riconoscibile sottoscrivo la mozione del amico e collega Vito Grassi sul fatto che bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo e cercare di aggredire questa opportunità in termini positivi anche perché c'è un nodo politico molto importante se noi non riusciamo a spendere questi soldi come sistema italiano come mezzogiorno rischiamo di piantare una figura politicamente insostenibile a livello europeo ovviamente dovremmo cercare di spenderli anche bene però non sottovalutiamo l'elemento meramente quantitativo. Detto questo siccome non dobbiamo per così dire scambiare questa necessità e consapevolezza con il fatto che tutto va bene veniamo a quelli che sono un po' i punti eh a mio avviso mh rilevanti di questa di questa prospettiva che si è aperta. Eh il problema principale secondo me è dato dal fatto che al di là di tutte le questioni relative a come è stato fatto il PNRR, come sarà, quale sarà il governo del PNRR, come sarà organizzata la capacità di spesa del PNRR, come sarà monitorato diciamo il tutto, al di là di tutto questo, al di là della stessa questione della percentuale di risorse da segnare a mezzogiorno che è importante, sulla quale ci sono state le assicurazioni ma poi dobbiamo andare ovviamente a vedere quanto tutto ciò si realizzi concretamente, al di di là di tutto questo il nodo fondamentale è che questo piano eh certamente per quanto riguarda questa missione a me sembra completamente privo di visione, nel senso che sia il governo Conte prima e poi il governo Draghi avevano certamente una griglia molto obbligante alla quale dover rispondere, quindi non è che potevano andarsene come dire liberamente per fatti loro, però in qualche maniera certamente anche per una questione di accelerazione dell'elaborazione del piano, per così dire hanno svolto un compito su quale ci sono credo molte riflessioni da fare, poi ripeto andiamo all'attacco ma non facciamo finta di dire che è tutto bello semplicemente perché è stato bene o male definito e incasellato. E quali sono, qual è il mio tema? Allora il mio tema nasce da questo elemento informativo elementare e cioè nel 2019 i giovani adulti di 30-34 anni si presentano così schierati in Italia 27% senza diploma, nel sud arriviamo al 33-34%, media europea 16%, con diploma 46% come media nazionale, il sud è e in media, ma l'ho detto prima anche Luca Bianchi, sui diplomi per così dire ci sono degli elementi di allineamento contro il 42% della media europea, non sono più ciuchi, semplicemente ci hanno più laureati perché il punto 3 è che sempre nel 2019 in questa classe di età noi avevamo 28% di laureati in Italia, il 21% nel sud contro il 42% della media media europea. È tutto male? No, abbiamo migliorato molto, nel senso che nel 2000, non nel 1950, senza diploma nel mezzogiorno c'era oltre il 50% della comparabile classe di età e i laureati erano il 10%, quindi i passi in avanti si sono fatti, il punto che noi dobbiamo ovviamente alzare in qualche modo l'asticella. Questo quadro informativo è importante perché quando io dico carenza di visione è per il fatto che, qui è questione di valutazioni che si possono discutere, è importante capire qual è lo scopo fondamentale del gioco che a seconda della materia che si affronta si vuole mettere in campo. Io dichiaro subito, è facile facile, che a mio avviso il tema che avrebbe potuto o dovuto aggregare tutte le azioni, il cui indice non è male per quanto riguarda la scuola, l'indice è buono, che ci sia un problema di asilinito lo sappiamo, che ci sia un problema di tempo prolungato non c'è dubbio, che ci siano problemi di reclutamento e formazioni di docenti, dirigenti e personale amministrativo, non c'è dubbio, l'intero pacchetto presenta un indice del tutto accettabile, però secondo me non c'è l'elemento aggregante, secondo me l'elemento aggregante è l'abbattimento ulteriore a della dispersione scolastica, anche qui noi abbiamo fatto passi dal gigante nel tempo, non è che le cose sono rimaste ferme nel tempo, però sta di fatto che noi abbiamo ancora su scala nazionale un 13,5% di ragazzi che non completano il percorso scolastico nella classe di età 18-24 anni, erano il 18% nel 2010, anche qui c'è stato un miglioramento, ma non c'è dubbio che il problema permane e nel sud permane in misura ancora più severa, adesso non ce l'ho la tabella sotto mano, ma mi ricordo che per esempio in Sicilia siamo a dispersione del 20-22%, una roba pesante. Quindi prima questione è in che misura noi sintonizziamo tutto, compreso l'intervento sull'asile nido, che non è solo una questione relativa alla migliore occupazione delle donne, è una questione più generale, di come dire assetto dell'offerta e del progetto e del profilo educativo, quindi prima questione ridurre la dispersione, seconda questione non c'è dubbio e questo è più delicato, è più difficile, è aggredire questo famoso divario più volte denunciato, anche se con stagioni diverse, lo diceva prima Luca Bianchi, relativo ai livelli di competenza per quanto riguarda italiano, matematica, mi pare inglese, i livelli di competenza misurati dall'Ox e Pisa piuttosto che anche dall'invalsi. Qui la materia è più delicata, anche perché senza stare a farla troppo lunga, un elemento sul quale riflettere è dato dalla forte differenziazione che nel Sud c'è comunque tra gli studenti che frequentano i licei e gli studenti che frequentano l'istruzione tecnica e l'istruzione professionale, che secondo me è sintomo di una questione di natura socio-economica che non va sottovalutata e questo lo dico a Giuseppe Cocco, la spiego molto facilmente la fioritura dei 100 che c'è nel Sud, dipende semplicemente che quando non solo tra scuole, ma all'interno della stessa scuola, della stessa classe, i divari sono molto grandi, la scala docimologica salta. Se tu hai molte persone deboli che devi salvare dandogli 6 quando meriterebbero 4, è chiaro che quelli in cui tu daresti 8 prendono 10, non è complicatissimo da illustrare. Poi siccome siamo tutte persone equilibrate sappiamo che il risultato medio è quello che devi andare a vedere e non questa specie di giochino all'inseguimento del voto più alto. Quindi come dire, questi sono i due grandi temi da aggredire, quindi per quanto mi riguarda fin anche la questione del trasporto scolastico deve essere legata al fatto che probabilmente un migliore o maggiore tempo di scuola, una sciocchezza giusto per esemplificare, può essere utile per esempio sia a ridurre la dispersione sia presumibilmente anche a migliorare le competenze degli studenti. Per quanto riguarda l'università, però sto andando troppo lungo, la materia è un po' diversa, nel senso che la scuola italiana non è favolosamente finanziata, ma se non mi ricordo male i dati non siamo proprio al fondo del fondo della classifica. Per quanto l'università non è così, noi siamo veramente al fondo del fondo della classifica come finanziamento, questo come dato storico, non è un fatto recente. A questo aggiungo il fatto che è stato evocato, ma io voglio sottolineare che non solo certamente dal 2008, forse fino al 2019 o 2020, il fondo di funzionamento ordinario è rimasto credo al palo, sono rimasti quei 7 miliardi circa, quindi in termini reali certamente molto meno. E questo è grave per tutto il sistema universitario. Partiamo da Bolzano e arriviamo a Catania, dove ci pare. Peccato che, questo lo dico senza rivendicazioni, ma vorrei che ci fosse una chiarezza anche qui di quadro, che in questo ridimensionamento le università del Sud, ma non solo, anche questo è importante, hanno subito un taglio di fatto del fondo di funzionamento ordinario, soprattutto o comunque certamente in larga parte attraverso le manipolazioni sulle quote premiali, in misura severissima. Allora io vedo che nella mia città, così faccio il campanellista, Bari, dal 2008 al 2018 FFO meno 15%, questo non mi può spiegare integralmente il fatto che nello stesso periodo Bari ha presso il 25% degli immatricolati, sia chiaro, però un pezzo di spiegazione me lo dà. Palermo meno 21%, meno 24%, ma vedo anche Genova, per dire che i problemi vanno visti in una chiarezza più larga, meno 12,8 di FFO meno 13,5 di immatricolati. Ora, ripeto, non è la spiegazione unica, sarebbe ingenuo, però certo non ha aiutato questa riduzione di risorse, non ha aiutato il mancato turnover, che la faccio breve e senza troppa polemica, ha aumentato il tasso di moralità concorsuale dappertutto, certamente anche nel mezzogiorno, in misura inimmaginabile, perché è scattato il famoso complesso dell'ultima spiaggia, per cui valeva tutto, se c'era un mezzo punto di organico, guerra civile e come si dice, non conosco, non riconosco nessuno, ha certamente contribuito, accanto ad altri fattori, alla emigrazione degli immatricolati verso altre sedi universitari e senza capacità di attrarre, perché l'immigrazione non è un male se compensata da un flusso di immigrazione degli studenti, tutto questo ha fortemente dei propri erati del sistema. Allora, che cos'è che non mi convince della proposta del PNRR? Che questo aspetto, e cioè probabilmente non è il compito del PNRR, ma comunque questo aspetto di quello che è il funzionamento della rete di università, non solo come luoghi di insegnamento, ma anche di ricerca in Italia, non mi pare che risulti in nessuna parte. Non mi sembra che ci sia una traccia per una qualche forma di razionalità relativa alle politiche di reclutamento, adesso c'è questa imbarcata di piani straordinari che sta creando grandi eccitazioni e creare un sacco di problemi, perché secondo me voglio capire come copriranno tutti quanti i punti organico che vanno ad assorbire, ma che non hanno una copertura eterna e per tutto quanto lo importa. E soprattutto tutto quanto il capitolo di università è giocato sul terreno sostanzialmente o prevalentemente del rapporto tra imprese e sistema della ricerca. Posso essere io avverso tutto ciò? No, ma non può essere una dimensione esclusiva, io questo lo trovo sbagliato. Quando poi vedo che tutto si gioca su, me l'ho scritto a qualche parte, non so, su 9 centri nazionali di ricerca e sviluppo, 12 campioni territoriali di ricerca di ricerca e sviluppo, 60 centri di trasferimento tecnologico, non è che sia una cosa diciamo in per sé brutta, però anche qui vorrei capire poi alla fine il gioco complessivamente come funziona e se tutto si riduce a questo. Anche la forte insistenza su una bellissima istituzione che sono di ITS, istituti di tecnici superiori, va vista con equilibrio perché sono magnifiche iniziative quando riesce a legarle realmente a un'attività su scala territoriale, io ne ho un'ottima esperienza, un'ottima immagine, ma se cominciamo a farne una cosa che si riproduce a prescindere, creiamo un altro problema, non risolviamo né i problemi delle aziende, né i problemi dell'occupabilità degli studenti. Quindi un approccio un po' troppo paradossalmente ideologico per quanto mi riguarda, piuttosto che non un approccio pragmatico. Quindi, ripeto, tutti quanti schierati, facciamo il meglio che possiamo, apprezziamo il fatto che ci siano più alprevisti, troppo pochi alloggi per gli studenti, apprezziamo il fatto che ci siano più borsi di studio, troppo poche per gli studenti, comunque la casella c'è, apprezziamo tutte le cose buone, imbarchiamoci verso questo forte sforzo di aggancio del mondo della ricerca con il mondo dell'impresa, però non dimentichiamoci dei capitoli che vi ho evocato, perché se poi il sistema universitario viene fortemente depauperato nel suo insieme e creiamo semplicemente una serie di punti o presidi, anche più o meno distribuiti con equilibrio su scala territoriale, secondo me mancheremo alla fine l'obiettivo principale che enunciavo all'inizio, che non solo ridurre la dispersione scolastica, ma è anche aumentare il numero dei laureati, che ci fa comunque bene a prescindere. Poi parliamo dell'occupazione, dell'occupabilità che è un'altra materia, però come dire, certo non fa male al sistema paese e all'Europa avere più studenti e studentesse italiane laureati. Grazie, grazie Alessandro, concordo in pieno anche su questa questione dei centri di trasferimento tecnologico, centri di eccellenza, centri di competenza, come dicevo prima, ce ne sono 600, ma non si è mai fatta un'analisi per capire effettivamente che tipo di risultati hanno portato, perché molti di questi sono stati finanziati da bandi pubblici e quindi noi come gruppo di lavoro del Ministero abbiamo chiesto, prima di dare corso ad apertura di nuovi centri dislocati nei territori, di verificare gli effetti di quelli che finora sono stati già finanziati e hanno già lavorato. Sono pienamente d'accordo con te, Calamandrei, padre costituente, ci diceva che la scuola e l'università erano forse più importanti delle altre istituzioni, perché formavano la classe dirigente delle altre istituzioni, di questo non ci dobbiamo dimenticare. E quindi la formazione che oggi colleghiamo all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo dei territori diventa ancora di più un elemento importante. Un'altra cosa di cui non ci dobbiamo dimenticare è la diseguaglianza nella diseguaglianza, e cioè le donne che studiano anche all'interno dell'università, che sono quelle che finiscono in tempi più brevi, hanno voti più alti e guadagnano di meno. E quindi dobbiamo anche pensare a ridurre questa diversità che poi è ancora più forte nei nostri territori. Io do la parola a Lavezia Reichlin, economista di fama internazionale, che si è impegnata anche in questo campo per chiederle questa relazione tra formazione e innovazione, ma letta all'interno dei territori nei quali opera. Grazie, grazie dell'invito, spero che siete svegli perché è molto caldo, abbiamo mangiato tanto, quindi vi vedo insomma parecchio provati, anche io devo dire. Comunque commentavo con Alessandro prima che la conferenza è partita con un grande ottimismo, o anzi un ottimismo direi quasi sconsiderato, c'è un sud che trascina il nord e che trascina addirittura l'Europa, con tassi di crescita previsti del 5% annuo per i prossimi 5 anni. Poi piano piano la conferenza è evoluta in una specie di pessimismo tipicamente meridionale, in cui invece non sappiamo decidere, c'è una difficoltà di attuazione dei programmi, la scuola è un disastro, insomma quindi alla fine penso che dovremmo andare a casa con un messaggio diciamo un pochino più equilibrato e quindi vorrei insomma cercare di mettere, di tirare le file un po' di quello che si è detto stamattina e poi le cose molto interessanti che sono state appena dette sulla scuola. Allora siccome il panel è formazione e innovazione partiamo dall'innovazione e quali sono i dati sull'innovazione? Tanto l'Italia, cioè l'Italia ha ritardi strutturali rispetto all'Europa come numero di brevetti, come investimento in research and development, è indietro ai paesi europei per risorse umane impegnate nel campo della conoscenza in generale e il sud è in ritardo con l'Italia, quindi anche in questo campo abbiamo questo doppio gap, Italia verso Europa, sud verso nord. Se si vedono i dati dell'Istat anche sull'evoluzione, la quota di occupati nell'high tech nel mezzogiorno è diminuita negli ultimi anni e circa un terzo delle imprese meridionali tende ad innovare contro il 46.5% del centro nord. Le cose stanno cambiando a livello nazionale perché aumenta la componente privata in ricerca e sviluppo, ma questa ricerca e sviluppo è fatta soprattutto nelle grandi imprese, mentre le piccole sono fuori da questo mercato. Perché dico questo? Perché se si parla di formazione, impresa e innovazione si deve parlare sia della domanda che dell'offerta. Quindi il territorio delle imprese del meridione è importante per capire anche qual è la domanda degli cosiddetti skills. Quindi perché il ritardo al sud? Questo ritardo è molto in parte spiegato dalla dimensione di impresa, quindi una grande iperfragmentazione un'impresa piccolissima. Anche la crisi delle aree industriali tradizionali e oggi abbiamo sentito stamattina una serie appunto di idee per il rinnovamento di queste aree, ma questo sicuramente sarà un polo possibile forse per l'innovazione. Per un'università debole che ha visto una grande fuga di cervelli negli ultimi anni, in 15 anni il sud ha perso 250 mila laureati e poi un sistema fragile che è un po' quello che avete descritto voi. Quindi prima di tutto vorrei fare prima un punto generale, poi parlare un pochino, riprendere alcune cose su istruzione e università e anche rispondere alla tua domanda. Quindi per l'innovazione c'è bisogno sia di impresa che di formazione, sia di domanda che di offerta. Stamattina ho sentito anche lei parlare appunto del modello Polo, Stanford eccetera. Cos'è questo modello e è riproponibile al sud oppure bisogna pensare a qualche cosa di diverso? Cioè il modello che è quello della Silicon Valley è un connubio tra ricerca, finanza di mercato, quindi non banche ma finanza di mercato, che supporta le start up e che poi le imprese mature assorbono e in qualche modo anche finanziano nelle fasi iniziali. Quindi diciamo un ecosistema molto differente da quello che noi abbiamo qui. E quindi la condizione per questo modello è università di eccellenza, territorio capace di attrarre talenti dal resto del mondo, quindi una globalizzazione dei talenti, innovazione nei metodi formativi, capitali privati e pubblici in grado di sostenere finanziariamente questa cosa qua. E una cultura di base garantita da una scolarità diffusa con istituzioni efficienti. Ok, questo non è il quadro del sud, quindi leviamocelo dalla testa, non si può fare Stanford qua. Magari ci si arriva, però non è la prima cosa. Allora spacchettiamo però tutti questi elementi che sono il contributo di successo di questo modello. Allora, università. Allora io qui ho un'idea che immagino non sia condivisa da tutti. Noi abbiamo un problema, i suoi dati li avete ricordati, il mezzogiorno si laurea circa un giovane su 5 contro poco meno di 1 su 3 nel centro nord, nel 2019 nel nord si è laureato il 31.4 dei giovani, nel centro il 31.3 nel mezzogiorno il 21.2, il tasso di transizione dalla laurea al lavoro è molto più basso che al nord e poi questo è un equilibrio che non è stabile perché si va meno all'università e chi si laurea poi emigra e va a lavorare al nord, dove ci sono più opportunità di lavoro, quindi la parte domanda. Quindi a mio avviso bisogna agire su due livelli. Intanto distinguere da qual è la funzione, sia sociale che economica, dell'università di base, cioè tipo il modello Community College all'americana, che è il triennio, un triennio che non aspira a fare ricerca fondamentale, ma è un triennio che aspira anche a collaborare appunto con gli enti pubblici, con le imprese che ci sono per progetti, sicuramente non è la ricerca fondamentale, perché la ricerca fondamentale è molto costosa, è molto costosa e significa, è una gestione delle risorse e un'entità delle risorse completamente diversa da quello che possiamo anche prevedere in questo panorama del Community College. Però i Community College hanno una funzione molto importante, inclusa quella sociale, l'università porta energia, porta comunque conoscenza diffusa, insomma ha un ruolo molto importante nel territorio. Quindi questo probabilmente va potenziato e sono d'accordo che l'idea Boeri-Perotti su appunto la distribuzione delle risorse sulla base del merito esclusivamente è un'idea molto distorsiva che non si rende conto appunto di questa esigenza, le politiche territoriali non si fanno solo con degli incentivi di tipo meritocratico o di prezzo. Però c'è anche il punto del polo della ricerca. Io credo che in un'area così grande come il meridione non si possa non avere almeno un polo di ricerca fondamentale di livello internazionale. Probabilmente intorno a Napoli, intorno diciamo a già i luoghi dove c'è un ecosistema diciamo già abbastanza robusto. E io credo che su questo dobbiamo superare le differenze ideologiche su chi è a favore e contro la meritocrazia e guardare i modelli che hanno avuto un certo successo. Per esempio l'Italian Institute of Technology di Genova ha avuto un enorme successo, ha beneficiato di investimenti pubblici abbastanza sostanziosi, però ha dimostrato poi di arrivare al regime con una capacità di attrarre grant europei e di essere un polo di attrazione per ricercatori che arrivano a tutto il mondo. Nella fase matura l'IT ora si anche collega alle università locali e quindi cerca di give back in un certo senso, quindi nasce come un'isola di privilegio, però nel momento in cui diventa matura ritorna sul territorio. Questo è un po' anche il modello del Max Planck, è diciamo quindi direi che l'idea di dividere l'università non è tutt'una, l'università ha un ruolo di formazione di base e poi ha anche un ruolo nella ricerca fondamentale che per un paese maturo come l'Italia è una aspirazione che noi ovviamente dobbiamo avere. Allora, secondo me non siamo sulla strada giusta perché se ricordiamo il PNR appunto si prevede la creazione di 12 campioni nazionali di ricerca e sviluppo entro il 2026 con uno stanziamento di 1.6 miliardi. 1.6 miliardi per 12 campioni nazionali fa ridere, cioè ma veramente, ho fatto tutta la mia carriera all'estero, vi posso dire è niente, cioè vuol dire che si è rinunciato a fare questa cosa per non dire oddio diamo i soldi a questo o quell'altro si fa ancora una volta un investimento a tappeto che non serve assolutamente a nulla. Troppi centri con troppi pochi soldi e basta fare un confronto con la Germania per capire perché questi numeri non stanno in piedi. Poi, due, questo è il primo punto dell'università. Secondo punto, ho parlato di domanda, quindi c'è bisogno anche di affrontare il problema della frammentazione delle imprese, perché le microimprese nel Sud, perché non si riesce a crescere? Ora io qui non ho tempo, però forse è anche più il mio mestiere di parlare di finanza per l'impresa. Io credo che noi dobbiamo pensare a degli strumenti molto innovativi nel Sud, perché i capitali privati non vengono al Sud, perché è troppo rischioso, è un casino lavorare qua, vi assicuro io ho una piccola scuola, è una fatica tremenda lavorare qua, vabbè voi lo sapete naturalmente molto meglio di me, e non possiamo pensare di essere all'Olanda. Quindi c'è bisogno di un intervento pubblico, di un ibrido, pubblico privato, c'è una grande discussione in Europa su questi interventi ibridi di capitale, non basati sulle banche, anche perché francamente le banche al Sud non hanno dato il loro meglio, non voglio ricordare la popolare di Bari. Però è molto difficile fare questa cosa qua, perché? Perché le imprese sono troppo piccole, questi fondi che anche l'Italia ha attraverso casse depositi e prestiti hanno difficoltà ad andare a intervenire sulle microimprese, perché sono imprese familiari, che non vogliono intrusione, perché non le acchiappano, perché non sanno giudicare quelle che hanno un upside, che quindi hanno comunque, perché i soldi naturalmente vanno messe sulle imprese che hanno una potenzialità di crescita, non sugli zombie. Quindi insomma su questo c'è una riflessione che ora va un po' al di là di questo panel, però è importante parlare di questo, perché se non si parla parte anche della domanda di innovazione non si capisce dove c'è il bottleneck, insomma perché l'innovazione se ne fa poca nel Sud. Arrivo al terzo punto che è la scolarità di base. Molte cose sono state dette da Giuseppe Cocco e sono molto d'accordo su quello che lui ha detto, ci siamo confrontati varie volte su queste cose. La questione degli asilio nido e del tempo pieno a scuola, soprattutto il tempo pieno, è un problema per me essenziale al Sud ed è un problema che si innesca, come ha detto benissimo Giuseppe, anche su una cultura diversa, una cultura che non pensa che il tempo pieno sia un benefit per la famiglia, è anche in parte legata a una bassissima partecipazione del lavoro al mercato femminile, al mercato del lavoro, ricordiamoci che al Sud come partecipazione al mercato del lavoro femminile noi siamo sotto la Grecia, sotto la Grecia siamo, non come retribuzioni ma come tasso di partecipazione e c'è un problema culturale, io faccio l'economista però, ieri avete parlato di cultura, di modelli, io credo che i modelli culturali sono molto importanti per capire anche perché certe cose qui non si fanno e se domani raddoppiassero gli asilio nido e il tempo pieno non credo che cambierebbe molto, non è solo una questione di metterci i soldi. Considerate che a Milano il 90% delle scuole elementari è a tempo pieno e a Palermo il 4.5, questa è la differenza e questa è una cosa che avrà degli effetti persistenti sulle capacità di conoscenza dei giovani di queste regioni enormi, cioè non si può pensare che una differenza tra il 90% e il 4.5% non sia irrisoria. Quindi se vogliamo pensare all'umanesimo, che è la parola chiave del vostro convegno, io penso che questa reinterprezzazione dell'umanesimo, in questo senso di ritrovare un umanesimo che parte anche dai valori della famiglia, dell'individuo, delle aspirazioni delle donne, ci sia bisogno di una reinterpretazione di questa parola al di là della ratorica dell'umanesimo. Ora, su queste questioni del tempo pieno, anche lì il PNR è molto deficiente, nel senso che c'è molto spazio, c'è un certo spazio sulla questione delle menze, ma è molto legato agli edifici scolastici, mille edifici scolastici entro il 2026 e mille edifici scolastici, c'è un quartiere di Roma, quindi lasciamo stare. Però insomma c'è un po' sugli asili nido, ce n'è di più. In generale sulla scuola e la formazione del PNR ci sono circa 20 miliardi, quindi il 10%, 10% è poco se pensiamo che il capitale umano sia un fattore di sviluppo importante. Sulla scuola secondaria, allora, lì c'è, anche lì, è importante quello che ha detto Giuseppe prima, perché questi dati di invalsi vanno guardati nella loro granularità. Nella scuola i risultati per le scuole elementari tra nord e sud sono praticamente gli stessi, il divario cresce andando più avanti, quindi cresce nelle medie, diventa enorme alla secondaria e alla superiore, sia ai licei che agli istituti tecnici. Inoltre, la varianza dei risultati è maggiore all'interno delle città del sud che all'interno della città del nord, quindi vuol dire che nei quartieri di Catania c'è più differenza tra un quartiere e l'altro che tra i quartieri di Milano e anche all'interno delle scuole. Quindi è una specie di segregazione all'interno delle scuole e all'interno delle città che significa che l'ascensore sociale qui non funziona e questa è una cosa molto importante. Inoltre, questo significa che il ruolo delle aspettative, cos'è che un individuo si aspetta del suo destino, è chiave per capire perché c'è l'abbandono scolastico, per capire il fallimento. Se tu pensi che l'istruzione pagherà poco in termini di futura occupazione, ti impegni poco e poi vedrai che infatti l'istruzione non paga, si chiama self-fulfillment, self-fulfilled expectation. E questo naturalmente aumenta, più diventi grande, più quindi questo disappointment generale, eccetera. Questo è stata un po' la missione della mia scuola di Siracusa, cioè l'idea di portare, con pochissime risorse che noi abbiamo, di portare l'idea del mentoring, cioè di prendere noi soprattutto sulle ragazze, sulle ragazze che si iscrivono nell'università di materia STEM e ora sulle secondarie facciamo un po' lo stesso lavoro, di metterle in contatto con delle manager di imprese del nord e del sud che le accompagnino a fare delle scelte di vita, a capire i modelli di riferimento e diciamo a confortarle nella possibilità, diciamo, nelle loro aspirazioni individuali. Quindi è un lavoro quasi da psicologi, che non faccio io perché naturalmente sono pessime da questo punto di vista, che però facciamo con persone che appunto ci aiutano da questo punto di vista, che seguono gli individui, che portano dei modelli e questo ha a che fare con il nuovo umanesimo e con la cultura di cui parlavo prima. Ora, questo problema in un certo senso è legato un po' a quello che dicevano, che si diceva stamattina con un argomento completamente diverso, tutto quello che noi ci aspettiamo dai prossimi anni, cioè le grandi trasformazioni dai rischi climatici alla tecnologia eccetera, chiederanno di avere questa cultura e questa conoscenza diffusa che ci daranno la flessibilità appunto di poter cogliere queste opportunità e questa sfida è sicuramente diciamo difficile da cogliere in questa situazione. Devo chiudere perché sto parlando troppo, però comunque altre cose sugli istituti tecnici superiori anche lì c'è molto poco, ho dei numeri, vabbè li lascio per dare spazio ad altri. Altra cosa, formazione manageriale molto importante, pochissime scuole manageriali nel sud e su questo anche noi a Ortigia abbiamo provato però tutto il tema della formazione per chi già lavora e l'accompagnamento nella vita lavorativa c'è pochissimo è fatto male, quindi questo dovrebbe essere un'area di intervento importante. Quindi mettendo tutto insieme qui concludo, io credo che bisogna lavorare sulle sinergie di queste aree di intervento che vanno dall'impresa alla scuola all'università, bisogna pensare che questa idea catch up theory che se tu dai un po' di incentivi magari di tasse, magari di questo, poi arrivano i talenti al sud, questa cosa non funziona, non ci credono più neanche gli economisti più tradizionali. Il fattore lavoro diventa più produttivo solo se intorno c'è un microcoso, c'è un ambiente che favorisce valori, aspirazioni, talenti, qualificazione e quindi questa forse è l'idea che manca nel PNR, sono d'accordo con Alessandro anche se non sono d'accordo su tutto quello che hai detto, però questa idea fondamentale di che cosa sono le politiche place base al giorno d'oggi manca, cioè quindi sia uscilla da dire riempiamolo di soldi a dire diamo degli incentivi alle imprese, però non c'è questa idea più complessa. grazie a tutti, inizianamente andiamo verso l'ottimismo dell'agire, non potendo avere un ottimismo diciamo di visione. Grazie ancora a tutti. Vi ringrazio anche io per i contributi che avete offerto, purtroppo effettivamente emerge un quadro molto sconfortante per chi spera sempre che questo sud possa rialzarsi, evidentemente da questo quadro emerge un problema che si trascinerà ancora per molto tempo, che si trascinerà negli anni, forse ci sarebbe voluto un intero convegno, un'intera tre giorni per fermarsi su questo tema, mi sembra che le questioni principali che sono emerse e che ancora non c'è un'attenzione sui singoli problemi, su quello che è concreto, su perché la scuola media ha delle carenze, su perché calano le immatricolazioni, su come stimolare la domanda sia delle imprese che dei giovani affinché vogliano formarsi in queste università. A questo punto inviterei il pubblico, se avete delle domande a farle in modo da completare, arricchire il nostro dibattito. Il professore Luigi Mascilli Migliorini. Un po' di ottimismo maffettoniano lo dobbiamo riportare in pista, anche se quasi tutto quello che è stato detto è assolutamente ineccepibile, però dei pezzi diversi. Io sono un incallito frequentatore di università umanistiche, di atenei umanistici da quando sono praticamente nato. Scienze politiche può essere considerata una via di mezzo, ma sostanzialmente sono 40 anni che mi muovo dentro questa grande fornace che è le facoltà umanistiche. Facoltà umanistiche che vivono secondo me altrettanto, come dire, in maniera abbastanza uniforme, alcune difficoltà di fondo del sistema universitario che non vedo, come dire, essere suscitate dalla discussione di oggi. Noi oggi abbiamo, non oggi oggi, oggi in questo momento ci si dice che se, ed è verissimo, se la magistratura non cambia i suoi comportamenti, se il sistema giuridico non muta fondamentalmente è inutile metterci questi soldi, questi soldi non serviranno, anzi forse non dovrebbero nemmeno venire. Per altri settori si ha una, come dire, un'idea di differenze sostanziali, di gap sostanziali come il caso della sanità per esempio e addirittura il sistema regionale come è stato distribuito dal titolo quinto viene messo oggi sotto accusa come un punto di difficoltà. Dell'università non si ha, o del sistema scolastico in generale, la stessa percezione. E invece è così, è così perché noi siamo, io ho attraversato 40 anni di un'università post, diciamo, riforme degli anni Ottanta, pensata essenzialmente come area di parcheggio, come momento nel quale raffreddare, a un sistema economico continuamente decelerante, l'ingresso della mano d'opera nel mondo del lavoro. Questa cosa naturalmente per le facoltà cosiddette scientifiche ha degli elementi di freno naturale naturalmente, ma per le facoltà umanistiche è devastante. Cosa significa un sistema di parcheggio? Significa un sistema nel quale tu hai il fuoricorso, quindi tu hai la possibilità di laurearti quando vuoi e come vuoi, senza nessuna verifica di step successivi. Tu non hai ai primi anni, ai secondi anni, ai terzi anni, ma il fatto che tu abbia fatto gli esami, non li abbia fatti, con quali votazioni tu li abbia fatti, è assolutamente indipendente. Per cui noi, al di là di tutte le difficoltà che poi sono nate, soprattutto negli anni 2000, io ho un'intera generazione di allievi sacrificata dalla crisi che è stata evocata. C'è gente che ha atteso, e è anche vero quello che si diceva, più tu attendi, più la tipica condotta universitaria del treno che passa esagera gli elementi distorsivi dei processi concorsuali, perché è una cosa che sembra un paradosso, sembra, ma come? Se ce ne sono di più si faranno più imbrogli, virgolette? No. Intanto perché c'è un sistema di vis-à-vis, ci guardiamo meglio tra di noi nei momenti di contemporaneità, e poi soprattutto perché finisce la filosofia adesso a qualsiasi costo, perché se no io questa cosa la rivedrò poi tra dieci anni. Quindi noi abbiamo praticamente strutturalmente un sistema che non funziona, perché non è un sistema pensato per nulla, non è come si diceva prima pensato per la formazione della classe dirigente, non è pensato per la formazione di quelle che io ritengo ancora più importanti per il mezzogiorno delle classi dirigenti che sono le classi eseguenti. E da qui mi farebbe piacere, se ne aveste, visto che siete pieni di dati, il fallimento delle triennali. Il fallimento delle triennali. Le triennali dovevano servire a quello che stava dicendo prima lei, cioè un momento nel quale l'università crea, per così dire, delle condizioni di base, integrandosi possibilmente con delle esperienze del mondo del lavoro, dopodiché c'è una magistrale, o superiore come diavolo si chiama, che serve ad alto. In realtà quasi tutti i nostri studenti di umanistica, come hanno fatto la triennale, hanno fatto la magistrale, allungando e prolungando tutti le loro momenti, come dire formativi o deformativi più probabilmente, perché? Perché non c'è il lavoro intorno che assuma. E allora qui un altro problema, il rapporto con chi assume gli umanisti. Gli umanisti sono normalmente largamente assunti non solo dalla scuola, ma generalmente dovrebbero essere dalla pubblica amministrazione. Quindi tu dovresti avere un rapporto di immissione già a livello triennale con la pubblica amministrazione particolarmente efficace e di integrazione reciproca, se non che proprio la pubblica amministrazione è il punto nel quale i sindacati, il mondo politico teme un tipo di reclutamento che sia in qualche modo osmotico rispetto all'esperienza formativa e non abbia un momento di passaggio, chiamiamolo il concorso pubblico, oppure concorsi pubblici, maxi concorsi, 24 mila emissioni, ma nulla di continuo da giustificare che io mi fermi alla triennale perché poi? Aggiungo che tutti… Professore possiamo chiederle di stringere perché siamo fuori tempo. Finisco, finisco, due minuti. Prego. Primo, tutto questo è addirittura penalizzato, tutte le esperienze dottorali, tutto quello che possiamo fare nelle nostre università è un rapporto con l'impresa privata. Appena tocchiamo la pubblica amministrazione ci si dice che noi non possiamo fare dottorati innovativi, esperienze di lauree congiunte, nulla perché la pubblica amministrazione è un'altra cosa. E d'altra parte si vede, il PNR va cercando adesso gli amministratori capaci e non li trova, ma non li può trovare perché non ci sono, perché noi non abbiamo formato tutto questo e poi ha ragione Letizia Reiklin. Lucrezia, scusami, la diversità sul territorio non è pensabile che ancora da 40 anni noi non abbiamo fatto una scelta su 90 sistemi universitari, non abbiamo fatto un'università, cioè noi abbiamo delle università che fanno tutte in maniera diversa ma la stessa cosa. Non abbiamo il coraggio di dire che ci vogliono dei grandi centri di ricerca, delle grandi scuole che mettono a servizio del paese la vera classe dirigente, ma è anche vero però che non mettiamo nemmeno a disposizione dei territori, delle formazioni tali da potersi integrare con i territori. Lo sa bene Aurelia Sole, la Basilicata è comunque un risultato positivo per il territorio, la seconda università di Napoli che si è andata a stabilire a Caserta. È un buon servizio per il territorio e anche quelle della Calabria, ma naturalmente in maniere rachitiche, in maniere problematiche non c'è nulla di sistemico in tutto questo, perché non c'è nulla che ti distingue il fatto che tu abbia fatto l'università bene, triennale semmai, a Potenza, a Matera o a Caserta e che poi per fare un'altra cosa, ma un'altra cosa, non la stessa cosa un po' di più, tu l'abbia fatta a Napoli, a Bari o nella stessa Potenza o nella stessa area giocabile. Allora tutta questa cosa, l'ho detta un po' lunga e me ne scuso, ma tutto questo non è assolutamente all'attenzione del paese, perché il paese ha scelto l'idea ancora una volta delle locomotive e dei vagoncini. Qualche contentino viene dato alla Federico II o a qualche altra grande imprese, sistemi di pioggia come sono stati adesso ricordati e così andiamo avanti anche attraverso il PNR. È gravissimo questo momento di reclutamento della pubblica amministrazione con il quale si cercherebbero le eccellenze e non si trovano, adesso addirittura ho la sensazione che andremo a cercare, proprio raschieremo il fondo del barile dato i numeri molto elevati, prepara semplicemente un'altra e grande massiccia operazione di reclutamento clientelare sostanzialmente. E tutto questo non solo non determina nessuno sviluppo nel paese, ma non determina nessuno sviluppo soprattutto lì dove la pubblica amministrazione avrebbe estremamente bisogno. Non credo che tutto quello che oggi è l'idea di salvarsi prendendo un pezzo del paese, in questo senso la discussione è tutt'altro che pessimista, ma è ottimista perché dice signori se ci salviamo ci salviamo perché tutto questo diventa una grande questione in cui voi capite che non vi salvate reclutando continuamente, distanguando le università del mezzogiorno di qualcuno più bravo o semplicemente con un genitore un po' più provvisto di denaro. Il risultato finale sarà ancora una volta una cattiva pubblica amministrazione delle università che da 40 anni non sanno che cosa fanno, perché ci sono, qual è la nostra missione e e devo dire una gran quantità di denaro probabilmente perduta. Grazie. Grazie. Un'altra domanda? Non è riuscito a tirarci su però, professore. Non faccio un intervento. Voleva darci un po' di ottimismo ma non l'è riuscito. Sì, è riuscito a tirarci su mappertutto. Scivolato. La mia è una domanda di incerto ottimismo invece che voglio fare ai relatori. La premessa è preoccupante. Di incerto ottimismo nel senso che non so la risposta, se no non farei la domanda. No, io insegno a Milano da molti anni e Milano ha questa caratteristica di avere un'immatricolazione diciamo triennale e anche magistrale in cui la quota di immatricolazione meridionale è alta. In particolare gli atenei privati, Bocconi, Cattolica, noi, New Ulm, insomma è una quota importante di immatricolazione. Il fenomeno di anni fa era piuttosto preciso. Come partono i ragazzi per Londra, i meridionali partiamo per Milano, ma è sostanzialmente acquisizione di competenza, possibilità di entrare nel mercato del lavoro. Parlo di un mercato del lavoro senza idealizzarlo, ma insomma dove non c'è proprio il bisogno del padrinato. Il curriculum ti permette di essere saggiato, prima o poi quel mercato del lavoro ti prova. E questo è un affrancamento straordinario per i ragazzi, che i ragazzi meridionali vivono con molta serenità. Negli ultimi anni, cinque, sei anni, io osservo due fenomeni. Il primo è l'attaccamento all'apprendimento. I ragazzi delle prime file sono quasi tutti meridionali e le ragazze in particolare sono quasi tutte meridionali. La seconda cosa è la forte convincimento di acchiappare competenze, tra virgolette dicono loro, per tornare giù. Io lo faccio perché voglio tornare a, perché voglio contribuire a. Io non ho il, forse Alessandro ha degli elementi, io non ho il riscontro di questa storia. La trovo persistente, è quasi commovente a volte, non sono sicuro che il dato sia confortante, non sono sicuro che si faccia una politica che tenga conto di questo sentiment, e però il sentiment c'è, ed è un elemento che va valutato. Grazie, grazie. Del resto ne abbiamo parlato e scritto anche negli ultimi tempi, perché dopo il lockdown, dopo la pandemia, molti giovani hanno perso le motivazioni per vivere al nord o all'estero, e in molti hanno fatto ritorno. Pare che però sia già cominciato, per quel che ho capito, un percorso al contrario, perché poi in parte sono rimasti un po' delusi dalle opportunità, dai servizi e da quello che ha potuto offrire il mondo del lavoro. Veramente non mi dilungo, siamo andati un po' fuori tempo, ringrazio tutti, ci concediamo una pausa per il caffè, vi raccomando però alle 17.10 di nuovo qui. Grazie. Grazie.